Qualcuno ha già iniziato a verniciare le cabine, altri addirittura a montare i pali degli ombrelloni. Anche a Pesaro i titolari degli stabilimenti balneari guardano con ottimismo alla stagione 2021 ed hanno già sfruttato il bel tempo di questi giorni per portarsi avanti con i lavori di allestimento delle spiagge, che secondo quanto annunciato dalla Regione potranno riaprire i battenti dal 1 maggio. Le Marche potrebbero essere la prima Regione d'Italia a partire così presto con un vantaggio notevole rispetto ad altre Regioni come la vicina Emilia-Romagna che ha invece previsto la riapertura per il 29 maggio. Io spero soprattutto nel bel tempo, quello secondo noi dovrà essere il nostro vero alleato per farci sfruttare al massimo i mesi che ci daranno per l'apertura sperando di non dover incorrere in eventuali risalite del virus e eventuali chiusure. Abbiamo già livellato la spiaggia, stiamo iniziando a pulirla e quindi contiamo entro la prossima settimana ad avere una spiaggia, non dico pronta al 100%, ma sicuramente attrezzata. Abbiamo sempre avuto distanze ben al di sopra di quello che dice il protocollo perché abbiamo la spiaggia divisa in due zone, una da 16 metri quadri a ombrellone e una da 12 metri quadri e mezzo, quando il protocollo sappiamo bene che dice 10,5 metri quadri. Quindi noi non abbiamo problemi, non abbiamo perso un ombrellone l'anno scorso, non ne perdiamo nessuno quest'anno, anzi abbiamo aggiunto qualche ombrellone per le compagnie di ragazzi. La voglia di ripartire c'è, le richieste sono tante, le persone hanno voglia di venire al mare, non vedono l'ora di uscire di casa ovviamente. Vediamo che avete già piantato i pali degli ombrelloni. Sì, qualche giorno che ci sono già, anche perché così ci rendiamo conto di quanti ne riusciremo a mettere di ombrelloni perché molti clienti che l'anno scorso non hanno preso l'ombrellone per paura del Covid, quest'anno ce l'hanno richiesto. I preparativi stiamo a gonfie vele, stiamo procedendo con la verniciatura di tutte le cabine e l'attrezzatura da riportare giù. Diciamo che siamo a buon punto, stiamo aspettando definitivamente la data di ripartenza e speriamo in un'estate buona. Quando monterete gli ombrelloni, quando inizierete? La stagione inizia il 29 maggio, diciamo che aspettiamo adesso un ripascimento della costa vista l'erosione di tutti gli anni e di seguito a quella ripartiremo per farci trovare pronti in data. L'auspicio per questa stagione 2021 qual è? Anche rispetto allo scorso anno ci sono state già delle richieste? Le richieste sì, ci sono. Speriamo che sia un'estate buona, soprattutto all'insegna dell'ottimismo, che si possa ripartire perché ce n'è proprio bisogno. Speriamo che si possa vivere più in tranquillità e che con i vaccini e tutto si possa ripartire in modo definitivo.